La cartigelica Non prendere questa Questa è almeno riciclata No, meglio questi Ma pensi di salvare il mondo con i verdi? Certo, meglio una piccola cosa che niente, no? Va bene, ho capito Siamo quello che seguiamo Come dice la coppa Bravo Piano piano impari Ho imparato che l'1% va alla comunità E il 4% va come sconto sulla tessera socio Su tessera socio Vedi che sto imparando Ho imparato, però non ho capito bene Cos'è questa comunità Ottima domanda Posso farvi vedere di cosa si tratta? Sì, grazie Seguitemi Sono animali particolarmente importanti Perché sono all'apice della catena alimentare Nel nostro percorso abbiamo incontrato Coppaleanza 3.0 Ed è stato un bel incontro Perché con il progetto IOSI Abbiamo ottenuto un finanziamento Che ci ha permesso di fare alcune azioni importanti Siamo andati fuori con delle barche a pesca E abbiamo raccolto l'immondizia a fondo al mare Allora, cosa avete imparato? Che con l'acquisto dei prodotti di Viverda L'1% va per i progetti sull'ambiente Il 4% va sulla carta corda dei soci per lo sconto E quindi Siamo quello che scegliamo E quindi